Ehi la gente! Siete pronti per una notizia che vi farà saltare dalla sedia? Preparatevi per una grande notizia che farà parlare tutta la città! Il solo e unico Ezio Greggio sta arrivando nella bellissima Orvieto! Sì, avete sentito bene! Avete capito bene, la leggenda della comicità italiana in persona! Ezio Greggio, il maestro del sorriso, sarà qui con noi! Calcherà il palco del Teatro Mancinelli, un luogo storico che ha ospitato alcuni dei più grandi nomi dello spettacolo. Segnatevi sul calendario il 9 novembre, perché non vorrete perdervi questo evento! Sarà una serata indimenticabile! Ezio Greggio è un nome familiare in Italia. Conosciuto per il suo talento e la sua versatilità, ha conquistato il cuore di milioni di persone. Fa ridere la gente da decenni, portando gioia e risate ovunque vada. Dalla tv al cinema, ha fatto di tutto. Ha interpretato ruoli memorabili che sono rimasti impressi nella memoria collettiva. Il suo tempismo comico è impeccabile. Sa esattamente quando e come far ridere il pubblico. La sua energia è contagiosa. Ogni sua performance è un'esplosione di vitalità e buon umore. E la sua capacità di sdrammatizzare qualsiasi situazione è davvero notevole. Riesce a trasformare anche i elementi più seri in occasioni di risate. Questa prossima performance è la prova della sua popolarità duratura. I biglietti stanno andando a ruba, quindi, affrettate! Ezio Greggio è una vera e propria icona dello spettacolo italiano. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo contributo all'interno di vita. Il suo umorismo trascende le generazioni. Unendo le posizioni attraverso le risate, non importa l'età, tutti possono apprezzare il suo talento. Quindi, o che avete anche lunga data, o che abbiate appena scoperto il suo lavoro. Questo è un evento da non perdere. Preparatevi a una serata di risate e divertimento con Ezio Greggio Paolo Vieto. Non vediamo l'ora di vedervi lì. Immaginate l'affascinante teatro Mancinelli, immerso in una luce calda. Il pubblico freme nell'attesa. Le luci soffuse creano un'atmosfera magica, quasi surreale, che avvolge ogni angolo del teatro. Le persone si scambiano sguardi di eccitazione, consapevoli che stanno per assistere a qualcosa di veramente speciale. Poi, Ezio Greggio sale sul palco. Con la sua presenza carismatica, cattura immediatamente l'attenzione di tutti. Ogni passo che fa, è accompagnato da un silenzio reverenziale, come se il tempo stesso si fosse fermato per accoglierlo. La folla esplode in un applauso. Un'ovazione che sembra non finire mai, un tributo alla sua lunga e brillante carriera. Le mani che battono all'unisono creano un'energia palpabile, un legame tra il pubblico e l'artista. Questo è molto più di una semplice performance, è un'esperienza. Un viaggio emozionante attraverso ricordi, risate e momenti indimenticabili. Ogni espressione sul volto del pubblico riflette la magia del momento. Ezio condividerà aneddoti esilaranti, tratti dalla sua illustre carriera. Racconti che faranno ridere a crepapelle, ma anche riflettere. Ogni storia è un pezzo di vita, un frammento di un percorso straordinario. Ripercorrerà i suoi primi passi in televisione. Quei momenti in bianco e nero, che hanno segnato l'inizio di una leggenda. Le prime sfide, le prime vittorie e le lezioni apprese lungo il cammino. Parlerà delle sue esperienze a fianco delle star di Hollywood. Aneddoti dietro le quinte, incontri con icone del cinema e le avventure vissute sotto i riflettori internazionali. Le storie scorreranno a fiumi come le risate. Ogni battuta, ogni aneddoto, sarà un invito a lasciarsi andare, a godere del momento presente. Ma non si tratta solo di guardare al passato. Questo spettacolo è anche una celebrazione del presente e uno sguardo verso il futuro. Ezio darà al pubblico anche un assaggio del suo ultimo progetto, Una vita sullo schermo. Un'opera che promette di essere tanto innovativa quanto emozionante, un nuovo capitolo nella sua straordinaria carriera. Questo spettacolo innovativo è una miscela unica di narrazione, umorismo e tecnologia all'avanguardia. Ecco a voi quindi. Un'esperienza che unisce tradizione e modernità, creando qualcosa di veramente unico. Una serata all'insegna delle risate, dei ricordi e della magia di Ezio Greggio. Non mancate, sarà una notte che rimarrà impressa nella memoria di tutti coloro che avranno la fortuna di essere presenti. La carriera di Ezio Greggio è la prova del potere delle risate. Sin dai suoi esordi ha saputo conquistare il pubblico con il suo carisma e la sua capacità di far ridere. È esploso sulla scena con l'iconico show Drive-In, un programma che ha rivoluzionato il modo di fare televisione in Italia. È stato un successo strepitoso. Drive-In ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori, diventando un appuntamento fisso nelle case italiane. Questo show comico dal ritmo serrato e satirico è diventato rapidamente un fenomeno culturale. Le sue battute e sketch sono entrati nella memoria collettiva. Ma Ezio non si è fermato qui. La sua carriera è stata un continuo crescendo di successi e innovazioni. Ha continuato a condurre striscia alla notizia, la risposta italiana al Daily Show. Con il suo stile unico, ha saputo rendere la satira politica accessibile a tutti. Per oltre tre decenni, ha satireggiato l'attualità con il suo caratteristico umorismo. Le sue battute pungenti e la sua capacità di cogliere l'essenza delle notizie, lo hanno reso un punto di riferimento. La sua carriera è una lezione magistrale di tempismo comico e di acuta osservazione. Ogni sua performance è un esempio di come l'umorismo possa essere utilizzato per riflettere sulla società. Non ha paura di spingersi oltre i limiti. Ezio ha sempre sfidato le convenzioni, portando sul palco temi controversi e provocatori. Non ha paura di prendersi gioco di se stesso. La sua autoironia è una delle sue armi più potenti, capace di disarmare anche i critici più severi. E di certo non ha paura di far ridere la gente. La sua missione è sempre stata quella di portare un sorriso sul volto del pubblico, e in questo è riuscito magnificamente. La carriera di Ezio Greggio è un viaggio attraverso decenni di risate, innovazione e coraggio. Un vero maestro dell'umorismo che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Il talento di Ezio Greggio non si limita all'Italia. No, si è fatto notare anche a Hollywood. Ha recitato al fianco di Mel Brooks nella commedia Cult Balle Spaziali. È apparso persino nel doppiaggio italiano di Hercules. Le sue avventure americane sono la prova della sua versatilità. È a suo agio nel raccontare barzellette in inglese come in italiano. È un vero cittadino del mondo, che diffonde il buon umore ovunque vada. Sezione 5. Aneddoti e ilarità. Dietro le quinte, con Ezio. La carriera di Ezio Greggio è ricca di aneddoti esilaranti. Ha storie da raccontare per giorni, come la volta che ha accidentalmente insultato un famoso politico in diretta tv, o la volta che si è perso sulle colline di Hollywood con Roberto Benigni. Queste storie non sono solo divertenti, ma offrono uno spaccato dell'uomo che si cela dietro le risate. Ezio è noto per la sua generosità, la sua gentilezza, e la sua contagiosa joie de vivre. È l'anima della festa. Sempre pronto con una battuta o una storia divertente. Sezione 6. Una vita. Sullo schermo. Un viaggio nel tempo. Una vita sullo schermo è molto più di un semplice spettacolo. È un viaggio attraverso la vita e la carriera di Ezio Greggio. È una celebrazione delle risate, dei ricordi e del potere dell'intrattenimento. Lo spettacolo si avvale di un incredibile Ledwall, per dare vita alle storie di Ezio. Il pubblico verrà trasportato indietro nel tempo, sul set di Drive-In. Rivivrà i giorni di gloria di striscia alla notizia. È un'esperienza immersiva che rimarrà impressa nella memoria a lungo dopo la chiusura del sipario. Sezione 7. La magia del Ledwall. Riportare in vita i ricordi. Il Ledwall è molto più di un semplice sfondo. È un personaggio a sé stante. Permette a Ezio di interagire con il suo passato in un modo che è allo stesso tempo esilarante e commovente. Immaginate. Ezio sta raccontando una storia dei suoi inizi in televisione. Improvvisamente, il Ledwall si anima con le clip delle sue prime apparizioni televisive. Il pubblico è invisibilio mentre osserva un Ezio giovane e fresco che si destreggia tra le sue battute. Sezione 8. Una serata all'insegna dell'interazione. Ezio chiacchiera con il pubblico. Ezio Greggio non ama niente di più che interagire con i suoi fan. E in una vita sullo schermo, porta la partecipazione del pubblico a un livello completamente nuovo. Durante lo spettacolo, Ezio risponderà alle domande del pubblico. Condividerà i suoi pensieri su tutto. Dal cinema italiano, al suo piatto di pasta preferito. È una rara opportunità di conoscere da vicino una vera leggenda. Sezione 9. Il fascino intramontabile di Ezio Greggio. Cosa c'è in Ezio Greggio che continua a conquistare il pubblico dopo tutti questi anni? Forse è la sua risata contagiosa. Forse è la sua capacità di trovare il lato comico nelle situazioni quotidiane. O forse è semplicemente il fatto che è una persona genuinamente simpatica, che ama far ridere la gente. Qualunque sia la ragione, Ezio Greggio è una vera e propria icona dello spettacolo italiano. Il suo umorismo è senza tempo, la sua energia è sconfinata, e la sua capacità di entrare in contatto con il pubblico è senza pari. Non perdete l'occasione di vederlo dal vivo al Teatro Mancinelli il 9 novembre. Grazie.